Ciao ragazze! Eccoci qua con un'altra nuova videoricetta! Oggi facciamo i biscotti al tofu. Sono biscotti semplicissimi da fare, servono pochissimi ingredienti, quindi solamente il tofu e qua vi dico tutto, è dolcificante se le volete dolci. Potete utilizzare anche gocce di cioccolato o cacao per renderli più saporiti da quel punto di vista lì, non so se ci siamo capiti, ma per fare la videoricetta del tiramisù che vi lascio qui basta semplicemente utilizzare il dolcificante e se avete un microonde. Si possono fare anche al forno, ovviamente dovete utilizzare una coppettina di plastica, cioè non una coppettina di plastica, un recipiente piccolino che si può mettere in forno. Con il microonde la coppettina di plastica dell'IKEA, io ho utilizzato quella dell'IKEA, è molto più semplice, però potete utilizzare quello che volete anche in un piatto, stenderla, ovviamente non vi verrà esattamente tonda, precisa, come è venuto a me, ovviamente. No, scherzo! Però nel senso, per farvi capire quanta bellezza, se volete più una cosa carina o una cosa buona. Quindi io vi lascio alla videoricetta che è velocissima e alla ricetta del tiramisù. Un bacione, ciao! Per questa ricetta serve un panetto di tofu e dolcificante a quanto basta. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.